E' una riforma che deve far paura, demolisce la Costituzione per concentrare tutto il potere sul governo e su chi lo dirige. Tutte le regioni perdono, perdono autonomia, perdono poteri, perdono legislazioni, inevitabilmente perderanno anche le autonomie speciali perché più differenze ci sarà, più tendenza ci sarà a livellare, gli enti locali non contano più nulla. Dopodiché una grossa concentrazione si va verso l'annientamento sostanzialmente degli enti locali. Noi diciamo che non dobbiamo avere paura della concentrazione dei poteri, non dobbiamo avere paura neanche delle dittature, dobbiamo avere paura di Renzi in questo momento.